Con il risveglio di Alice Cecilia Belletti ci presenta un paese orribile nella sua apparente normalità, alla girandola di personaggi che propongono una realtà costituita di una sostanza solida di parole taglienti pronunciate con leggerezza, di indifferenza impossibile da scarpire, Alice oppone una strenua ricerca di una umanità ancora sconosciuta. Non sa che forma abbia o come la si possa manifestare, ma ha pede e quindi confuta con una incredulità testarda il mondo che le si pone davanti, nella vita quotidiana o nei giorni in ufficio. La narrazione spesso veloce precipita dalla fattualità degli altri a quella del mondo interiore di Alice, costituito da pensieri che nel loro susseguirsi con citato scolpiscono un mondo altrettanto vero quanto quello di fuori. Succede che di fronte a grandi ostacoli si metta a parlare con se stessa nel pensiero, ma anche ad alta voce, a tu per tu con quell'io dalle mille facce che vuole e non vuole la stessa cosa al contatto, che sente diversamente da quello che pensa o crede di pensare. Inchioda il semaforo per non passare con il rosso. Brava, Alice, sono fiera di te. Trasformala questa tendenza prepotente ed arrogante di dover passare a tutti i costi. Dove mai devi andare poi? Dove vai, Alice? Dove corri? Fermati, Alice. Fermati. Sì, specialmente adesso che ha lasciato il suo lavoro. A rifletterci bene, anche prima, perché correre stringendo la mano a quell'ansia inesperata? Seppure avessi fatto darvi al lavoro, non valeva certo la pena vivere in preda ad una stupida, frettolosa inquietudine. Ma certo, c'era lui che l'aspettava. Ecco perché. E da chi correva? No, un momento. Lui non stava ad aspettarla. Lui lavorava semplicemente lì con lei e basta. Alice tira un sospiro, non proprio di sollievo, ma ispira tutta la rabbia, l'angoscia, la paura accumulata in quei lunghi mesi. Sta rinascendo dopo una lunga esistenza di prigioria. Sì, per fortuna è passata. O quasi. Allora, io ho letto questo libro, forse era la prima stesura, un cinque anni fa, super buono. E l'ho trovato subito affascinante, infatti l'ho spinta proprio alla pubblicazione che lei che mi diceva, ma insomma, però io in fondo no, questo libro va pubblicato. Io ho trovato un cammino fino ad arrivare ad una consapevolezza molto sciuta, non è solo una storia dell'amore, ecco, le fragilità e la forza di una donna, no? Che è in cammino. E questa cosa mi è piaciuta tanto. E conosco Cecilia da tanto tempo ormai. Tre anni, tantissime, la Tania. Penso un po', quindi al massimo saranno almeno sei anni, sette forse. E qualcuno dice che le persone si riconoscono, no? No, noi abbiamo in comune varie cose. E quindi, insomma, sono veramente felice di stare qua adesso a tartassarti di domande che lei li ha tantissimo, perché dobbiamo conoscerla un po' di più, questa autrice. e lei fa tantissime cose, attrice, regista, montatrice, attrice, trattata, attrice di cinema, fa pubblicità, viaggia, fa sorgir con la Tainandia, adesso sta più divertendo. E insomma, tra l'altro la Tainandia ci lega, sia perché abbiamo un carissimo amico in comune, sia perché andiamo di tanto, tantissimo, il paese nel sorriso. Io, Cecilia, scrittrice, quando poi ti sei messa sul serio e diceva, va bene, adesso le pubblico, però mi chiedo, come, perché scrivere? Come è nata questa esigenza di scrittura? Dunque, quando ho iniziato a scrivere non avevo un progetto consapevole, ho scritto, specialmente i primi capitoli, per esempio quello che ho letto è proprio l'inizio, ho scritto. e poi mi sono fermata, quindi dopo un pochino di tempo ho ripreso in mano la cosa. Alla fine questo progetto inconsapevole è diventato consapevole nel momento in cui ho deciso di pubblicare il libro. Ma hai trovato un terapegno a scrivere? Ho voluto pubblicarlo con l'intenzione che potesse essere da incoraggiamento, comunque da scopo di riflessione per altre persone, perché comunque parla di fatti molto attuali, diciamo così, normali come dice Deborah. E' un paese orribile nella sua apparente normalità, quindi ecco, in questo senso.